Mascarella, Carvacalla, intercetta Dodò, il tunnel su Carvacalla, la magia di Dodò che poi prende un calcione da dietro da Carvacalla, reazione e forse qui poteva starci anche direttamente il cartellino rosso, molto scorretto Dani Carvacalla, i due se l'erano promesse già da diversi minuti, mamma mia che giocata nello stretto di Dodò, splendida! E poi la reazione di Carvacalla.